Siamo qui a Isola del Piano perché oggi, 30 gennaio 2016, le telecamere del TG3 della RAI e delle Marche sono qui alla Fattoria della Legalità. Dedicheranno una puntata del loro TG itinerante alla fattoria e alla questione delle criminalità organizzate. Siamo qui anche noi di partecipativi perché il nostro video L'Isola Felice Mafia in terra marchigiana ha riscosso un discreto successo. Ha avuto un largo pubblico che ci ha seguito e ci sta seguendo e appunto anche la redazione regionale della RAI si è interessata al nostro lavoro e quindi ne parleremo. La video inchiesta giornalistica L'Isola Felice Mafia in terra marchigiana ha voluto raccontare, ha voluto fare una fotografia della situazione, delle criminalità organizzate, della loro presenza nella nostra regione, le Marche. E lo abbiamo fatto intervistando più attori, non solo la magistratura, le forze dell'ordine e le istituzioni ma anche le associazioni che vengono coinvolte, che lavorano in tematiche che toccano questo argomento come appunto chi si occupa di prostituzione, chi di difesa dell'ambiente e del territorio, chi di gioco d'azzardo, chi di stampa e di informazione. È un lavoro che ci ha richiesto molto tempo, circa un anno, che abbiamo fatto prettamente in modo volontaristico, che però ci ha permesso di conoscere a fondo il nostro territorio e emerge una fotografia abbastanza preoccupante, cioè la fotografia di un territorio che fa gola, che è interessante e che suscita l'interesse appunto delle mafie che fanno affari non solo con i soliti e ormai conosciuti traffici della prostituzione o delle sostanze stupefacenti ma anche con le infiltrazioni nel tessuto economico e commerciale della nostra regione.